ciao ragazzi speriamo che si senta si sente se mi date un ok quando mi dite che si sente io inizio a darvi alle danze ciao a tutti innanzitutto mi sentite ok c'è anche civati allora vi faccio un piccolo cappello introduttivo ragazzi giusto perché ho appena finito di leggere un articolo fantastico del signor stefano del giornalista stefano feltri dove in sostanza non capisco nemmeno a cogliere se fosse serio ironico francamente però in sostanza metteva accendevo riflettore sul fatto che io e mia moglie con milioni di follower saremmo in qualche modo da regolamentare perché opereremmo in una zona franca in una zona grigia non regolamentata perché siamo degli imprenditori e non potremmo dire la nostra in quanto cittadini in quanto coscienza civica e civile no paragonandoci alla mafia paragonandoci alla mafia ok c'è un mio amico giambo lui è giambo della musica che gira con cui abbiamo fatto il fondo per i lavoratori dello spettacolo è venuto qua a salutarmi in realtà però mi è mi è mi è d'aiuto perché è molto bravo e trovo trovo assurdo che berlusconi possa fare l'imprenditore parlare di politica e fare politica cosa che noi non facciamo quindi tranquilli e amici non non c'è l'obiettivo mio di mia moglie di entrare in politica siamo dei cittadini dei cittadini entriamo nel dibattito pubblico perché ciò che riguarda il nostro paese riguarda noi come riguarda voi ed è una cosa che io faccio da quando avevo 14 anni e quindi non vedo il problema che ci sia de benedetti può fare l'imprenditore può dire la sua briatore può fare l'imprenditore dire la sua montezemolo può fare l'imprenditore dire la sua fedez e chiara ferragni vanno regolamentati allora se c'è qualcosa da regolamentare sarebbe bisognerebbe partire prima magari da dalle aziende che hanno preso magari dei finanziamenti statali e non sono mai state non hanno mai diciamo rispettato dei vincoli che gli erano stati imposti detto questo io quello che voglio fare oggi è mettere a disposizione la mia piattaforma la mia utenza per accendere un dibattito per parlare per dare un punto di vista diverso su un tema che che mi sta a cuore e per cui da mesi sto cercando di dare il mio piccolo contributo in maniera attiva con coscienza con coscienza civica da cittadino questo non vuol dire essere un politico questo significa essere un italiano che si preoccupa di quello che avviene nel suo paese poi a constatare la buona fede la cattiva fede ognuno si può fare la sua idea ma io continuerò a fare quello in cui credo mettendo a disposizione i miei la mia utenza a delle persone che secondo me possono dire qualcosa di interessante motivo per il quale oggi ho invitato alessandro zanna che diciamo è colui che dà il nome al disegno di legge e due persone marco cappato e giuseppe civati che le trovo trovo interessante il loro punto di vista perché sono delle persone che fanno politica fuori dal palazzo cioè sono estranea il mondo dei partiti ma riescono comunque a portare avanti delle battaglie secondo me importanti come per esempio il referendum sull'etanasia che sta portando avanti adesso cappato detto questo bando alle ciance io chiamerei alessandro zanna non mi ricordo più come cacchio si fa no stiamo mettendo un filtro qui no domande no 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 devo come cavolo si fa non mi ricordo più raga invita a partecipare ok ce l'ho fatta e poi unisco diciamo natural durante anche cappato e civati ciao come stai ciao ciao fede bene tu federico bene tu come stai bene 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 da dove 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 sei a Roma no sono a Padova in questo momento a Padova post vaccinato e un po' febbricitante però bene dai senti da dove da dove partiamo cioè io ti farei fare a te diciamo un'analisi di cosa cosa sta accadendo magari faccio un cappello introduttivo io cioè io mi sono segnato due tre robine per fare quello professionale no però giusto per dire cosa è successo ad oggi rispetto a quando ci siamo sentiti l'ultima volta sul sul ddl zanna va bene sono successi di ogni diciamo però ad oggi diciamo che c'è stato un cambio di passo importante da parte di renzi e che il partito di renzi quando alla camera è passato il ddl zanna è passato con una larga maggioranza ddl zanna che ha subito un iter difficilissimo è molto complicato con tanti voti segreti ed è già diciamo la sintesi è il frutto di una mediazione oggi renzi dice c'è bisogno di un'ulteriore mediazione e questa mediazione dovrebbe avvenire con salvini e meloni sostanzialmente no no è giusto nel senso che hai fatto una ricostruzione esatta la legge alla camera è stata ha subito un iter una mediazione lunga che è durata un anno e dove italia viva peraltro ha dato un contributo importantissimo alla realizzazione e alla sintesi finale con emendamenti abbiamo introdotto grazie a loro il tema dell'abilismo con un emendamento di una deputata d'italia viva lisa noia abbiamo veramente costruito una sintesi che raccoglieva le diverse proposte di legge tra cui anche la mia iniziale quella di ivan scalfarotto che io avevo sottoscritto e che però conteneva dei termini come omofobia e transfobia che nel corso poi della sintesi finale abbiamo cambiato perché perché molti giudici ci hanno detto e molti giuristi che omofobia e transfobia non si possono usare mentre si deve usare orientamento sessuale identità di genere perché sono termini giuridici consolidati nel nostro ordinamento dunque abbiamo fatto un lavoro veramente per cercare di far capire al meglio cosa cosa sta accadendo io farei un passo indietro cercherei di capire qual è la linea di renzi oggi cioè renzi che fa che rappresenta un partito che ha contribuito a scrivere il ddl zan perché l'articolo mi ero segnato alcune cose la ministra bonetti ministra per opportunità è intervenuta sull'articolo 1 giusto mi dicevi proprio articolo 1 che ha contribuito a scrivere che oggi vuole abrogare allora la tesi di renzi è questa al senato la legge così com'è non passa perché siccome ci sarà un vietnam parlamentare fatto di voti segreti di trappole se non riusciamo a costruire una mediazione con la lega non con fratelli d'italia con la lega la legge non passa il problema qual è il problema innanzitutto che prima di dire la legge non passa bisogna dire difendere la legge che si è voluta e approvata la camera perché quella legge lì è il lavoro faticoso durato un anno di tanti parlamentari che hanno lavorato giorno e notte che hanno prodotto quel risultato che ricordo è stato approvato a larga maggioranza e come dicevi giustamente tu con tantissimi voti segreti di mezzo dunque non è stata una passeggiata come so come so sono consapevole che sarà non sarà una passeggiata al senato perché ci saranno tutti i voti segreti ma se intanto anziché dire così non passa dobbiamo cercare una mediazione si dicesse innanzitutto noi difendiamo questo testo e lo vogliamo portare a casa perché ci crediamo perché l'abbiamo fatto anche noi questo sarebbe un atteggiamento molto coerente molto positivo il problema qual è è che oggi renzi vuole cercare di portare alla mediazione la lega che è dentro il governo che è una forza di governo ma questa legge non c'entra nulla con il governo perché questa è una legge di iniziativa parlamentare quando noi abbiamo iniziato il percorso era l'ottobre del 2019 federico cioè c'era un altro governo era un altro mondo politico e dunque e come tutte le leggi la legge sul divorzio la legge sull'aborto non sono state approvate da maggioranze che coincidevano con quella del governo ma ma sempre da maggioranze altre no che con trasversali in parlamento tant'è che questa legge è stata votata anche da parlamentari di forza italia io da un punto di vista proprio sempliciotto perché sono una persona sempre ma come come si può pensare di mediare su una legge per i diritti di persone con un partito che ha firmato la carta valoriale di orban che ha al suo interno una persona che cito testualmente prima che poi mi quereli che le donne siano più propense in materia di accudimento citazione di pillon che ha all'interno del partito attivo attivi in questo momento come sindaci in comuni italiani persone che hanno detto brucierei mio figlio metterei mio figlio nel forno se fosse gay i matri se i matrimoni omosessuali fossero lei fossero validi ci sarebbe l'estinzione della specie cioè come si può pensare di poter mediare con chi porta avanti un pensiero di questo tipo lo trovo paradossale esatto è la lega è quella che è andata e volata con la meloni a braccetto di orban a sottoscrivere quella cosiddetta carta dei valori che contiene delle cose orribili omotransfobiche ma orban ha approvato una legge omotransfobica e giustamente l'unione europea adesso gli dice non ti diamo i soldi del recovery se non intervieni su questo giustamente ma oltretutto dico di più la lega ha presentato una proposta di mediazione che toglie identità di genere identità di genere che è un termine consolidato giuridicamente non è un'invenzione del ddl zana esiste in tante leggi del nostro ordinamento dunque se lo togliessimo lo dovessimo togliere dal ddl zana dovremmo toglierlo da per tutto allora le persone perché l'identità ho appena visto un video fantastico di una ragazza che spiegava cos'è l'identità con in mano la sua carta d'identità con scritto sono una donna perché a un certo punto ha fatto un'operazione e lo stato italiano le ha riconosciuto un'identità di genere femminile l'identità di genere maschile e femminile e c'è l'identità l'identità in realtà tutti noi abbiamo un'identità di genere perché non è una cosa che riguarda solo le persone transessuali no come tutti noi abbiamo un orientamento sessuale come tutti noi abbiamo un sesso no l'identità di genere in due parole è la percezione profonda precoce e strutturata del proprio genere cioè sin da quando siamo bambini percepiamo qual è il nostro genere solo che ci sono dei bambini o delle bambine che percepiscono il proprio genere sin da quando sono bambini che è diverso dal loro sesso biologico ecco che allora bisogna aiutare questi bambini e i genitori oggi sono molto più sensibili fortunatamente in questo in un loro percorso di transizione perché si ritrovano con un genere che non corrisponde al loro sesso di nascita di genere è riconosciuta dallo stato cioè esiste già esatto è un diritto umano federico è un diritto umano perché togliere una cosa che è già presente ed è già allora la lega vuole togliere identità di genere perché evidentemente vuole discriminare un gruppo sociale che è già particolarmente discriminato cioè le persone trans transgender ricordo che l'italia è il paese con il più alto numero di omicidi di persone trans di tutta europa non parliamo parliamo di 400 mila persone cioè non stiamo parlando di persone allora come posso io avvallare una mediazione che toglierebbe un pezzo di umanità della legge perché la legge contro il crimine idoneo non è una legge sui prosciutti sulle verdure un tanto al chilo è una legge che deve essere maneggiata con cura perché ogni parola che toglie che aggiungi ha una ricaduta pesantissima sulla vita delle persone io da persona semplicissima quale sono è da mente semplicissima quale sono mi chiedo perché mediare ulteriormente su un disegno di legge che è già frutto di una mediazione in sé per sé cioè perché fare una mediazione cos'è che dicono loro cos'è che dicono loro che è diverso e su questo io ripeto io penso che alla fine anche i senatori le senatrici d'italia viva voteranno la legge così com'è e non accetteranno le mediazioni o le trappole della lega perché perché in realtà qui la legge contro il crimine d'odio allora io quello che penso è che è meglio nessuna legge piuttosto che una legge cattiva che discrimina invece qui si sta pensando che pur di portarla a casa si possono fare tutte le azioni possibili per dire ma devo dire questo è una mia una mia disamina personalissima c'è un po di mania di protagonismo di voler mettere il cappello su questa cosa in questo caso mi permetto di dirlo io mi assumo tutte le responsabilità ovviamente di tutto quello che dico c'è diciamo un protagonismo intrinseco in renzi che ha dato dimostrazione solo oggi di voler dire ecco sono arrivato io e napoleone porto avanti io la baracca il tema è che allora io e te la dico un po fuori dai denti io e te abbiamo due visioni diverse nel senso io credo e lo dico fuori dai denti che sia andato tutta gamba all'aria io ho paura che sia ho paura che sia andato no 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 tu no tu no tu no infatti oggi se no non avrei fatto questo lavoro federico cioè io ho portato a casa con l'aiuto di tanti colleghi la legge alla camera con tante difficoltà guarda che tante volte ho detto questa volta non ce la facciamo questa volta non ce la facciamo però bisogna andare avanti ed essere determinati per raggiungere l'obiettivo ho detto oggi mi hai detto federico mi raccomando fai il bravo perché se se mi sei troppo duro poi mi scombussoli che magari chi mi votava sì poi mi votano quindi oggi sarò molto cristiano però dall'altra parte io nel caso in cui ma in maniera sciagurata che non ci auguriamo non dovesse passare non vorrei nemmeno che passasse la narrazione che un politico con manie abbastanza centratrici che non aveva sostanzialmente a cuore realmente i diritti delle persone si attestasse si mettesse il gagliardetto di ci ho provato quando in realtà io vedo nel tentativo che vuole fare Renzi qualcosa di che potrebbe avere delle delle motivazioni che vanno al di là delle motivazioni politiche che vanno oltre in qualche modo può aver senso questo mio pensiero guarda io guarda io non lo so e voglio e non voglio nemmeno pensarlo che sulla pelle della gente poi si facciano accordi politici di altro tipo perché non stiamo parlando appunto di una legge economica ma stiamo parlando in una legge contro le discriminazioni dunque una legge dei diritti umani quello che dico io è che Renzi gli va riconosciuta ad esempio una grande forza di volontà per le unioni civili lui ha preso in mano la situazione chiaro abbiamo sacrificato la stepchild adoption ma abbiamo portato un risultato a casa e questo lo si deve a Matteo Renzi però adesso il quadro è cambiato lui allora era presidente del consiglio ha posto la fiducia ha convinto qualche riottoso e ha portato a casa risultato adesso non è più così cioè qui non si può portare dentro il governo in una legge che soprattutto se nel governo c'è la lega che come dicevi tu ha come dire lo ricordiamo stellari no abbiamo fatto la battaglia assieme che ha tenuto insabbiata la legge per mesi e mesi in commissione giustizia chiusa in un cassetto abbiamo dovuto fare il diciamo il 48 per poterla portare fuori no proprio francamente io capisco la scusa di Renzi è la politica è una cosa difficile ragazzi io qua la faccio da anni e non è che può arrivare degli stupidotti a dirmi come come si fa la politica d'altro canto io sempre mente semplicissima dico ma come si può pensare di mediare con degli individui che hanno delle idee ben precise esatto è difficile trovare una mediazione ti leggo una cosa che che ho letto di un giornalista scalfarotto che ha scritto una cosa molto sensata secondo me ha fatto un'esegesi perfetta la cosa singolare che fedez pensi che sia lecito parlare di Renzi ma non con Renzi la cosa singolare è che italia viva pensi che sia lecito mediare su una legge della comunità lgbt senza parlare con la comunità lgbt cioè è vero ed è un compromesso al ribasso ma io qui farei intervenire Marco Cappato perché ieri ci ho parlato e lui ha un'idea ben precisa adesso devo capire come cavolo si fa ma posso invitare più gente fantastico ragazzi la tecnologia sta facendo passi da gigante Marco Cappato eccolo qua vediamo se mi accetta tratto sono in orario perfetto che mi ha detto chiamami alle 18 50 ho chiamato alle 18 50 precise oh incredibile che eccoci bene grazie voi ciao Federico ciao ciao Marco dopo di mi ritaglio due minuti per raccontare quello che stai facendo e lo sbattimento che ti stai facendo che è pazzesco stavamo dicendo e siccome ieri io e te abbiamo avuto modo di parlare come questa mediazione che Renzi vuole portare avanti sarebbe una mediazione al ribasso e distruttiva e secondo me tu riesci a spiegare alle persone in maniera semplice perché sarebbe al ribasso secondo te allora ci proviamo allora intanto grazie grazie per l'invento perché il principio in teoria quanto dice Renzi potrebbe avere senso se fosse lo ha ricordato Zan come sulle unioni civili o anche il testamento biologico noi volevamo l'eutanasia c'era chi non voleva nulla e anche lì Renzi fu determinante per ottenere almeno il testamento biologico in politica il compromesso non è una cosa sporca tu vuoi 100 io voglio 50 prendiamo 75 però bisogna entrare nel merito qui il compromesso che si disegna a mio avviso vuole buttare via la parte migliore della legge e tenere quella non dico peggiore perché non è questo o neanche meno importante ma è l'aspetto del codice penale della sanzione penale cioè del crimine dell'istigazione che è un po a valle l'altra parte invece quella sull'educazione sulla formazione sulla scuola è quella che deve aiutare la prevenzione la cultura io personalmente ho molta sfiducia che il codice penale sia lo strumento giusto per realizzare per la pari la parità in italia ho proprio una diffidenza istintiva dal libertario poi è chiaro che se c'è questa legge e c'è la legge mancino e si prevede l'aggramante sull'odio razziale ma perché non dovrebbe estendersi sulla questione della disabilità sulla questione della sessualità però questa è la parte diciamo più giuridica ma meno importante la questione dell'identità di genere invece è proprio la parte non rinunciabile perché significa che la mia identità di genere cioè come mi sento io come mi percepisco io lo decido io non lo decide neanche la caratteristica come dire perché tu hai fatto l'esempio federico di una persona che ha fatto l'operazione il cambiamento di sesso ma l'identità di genere può anche essere di una persona che non ha fatto il cambiamento e se non si utilizza la definizione dell'identità di genere quella persona è esclusa dalla parità dei diritti da una legge contro le discriminazioni diventerebbe una legge che in qualche modo discrimina qualcuno quindi il ragionamento di renzi che in astratto è un ragionamento della nobiltà della politica c'è una posizione ce n'è un'altra si fa un compromesso se no non passa la legge ma non possiamo nel merito se tu per fare il compromesso io il compromesso lo farei anche con chiunque si farebbe anche con la lega se fosse un compromesso che salva il cuore della legge se invece il compromesso butta via la parte della prevenzione dell'educazione della formazione che guarda caso ovviamente non è un caso è la parte che ha fatto intervenire il vaticano con il concordato evocando il concordato i trattati internazionali allora è evidente che non perché si vuole essere massimalisti o tutto o niente ma è nel merito che quella proposta di compromesso diventa una strada sbagliata perché a quel punto effettivamente tutti speriamo tutti noi che siamo d'accordo che la legge possa passare ma piuttosto che avere una legge mutata della parte più importante a questo punto effettivamente allora diciamo nella prossima legislatura magari con il referendum ci occupiamo di abrogare tutte le discriminazioni che esistono in materia di unioni di matrimonio di figli eccetera e ci arriviamo comunque un'altra strada cioè il compromesso non può essere fine a se stesso e a tutti i corsi bisogna salvare il cuore di formazione educazione che è il cuore positivo leggero che non è un cuore di indottrinamento come ci vogliono fare credere ma è semplicemente che io a scuola non è che imparo che devo sentirmi donna uomo gay trans gpt qi imparo semplicemente che devo rispettare come ti senti tu per come ti senti tu non per come lo decido io o il professore tra l'altro scusa io sono rientrato adesso perché stavo per diluviare prima mi arrivava una quazzola durante la diretta il mi cioè io da esterno so che la lega e le forze con cui Renzi vuole impiare si oppongono proprio a questa parte della legge quindi lui consapevolmente sa che sta andando a smembrare se va a scendere a patti con quelle forze politiche stanno andando a smembrare quella parte lì cioè quindi consapevolmente stanno a lui ecco ecco siamo tutti consapevoli di cosa stiamo andando a smembrare se andiamo a scendere a patti con tutte le forze Salvini è stato molto esplicito ed ha detto se si tratta di alzare le pene cioè le sanzioni penali gli anni di carcere intendiamoci per chi commette violenza siamo tutti d'accordo io personalmente penso che in italia la risposta più semplice sia sempre alziamo le pene alziamo le pene ma non è questo il punto perché una persona che commette un crimine d'odio non è che ha in testa il codice penale prima di commetterlo e che se prende quattro anni lo fa e se ne prende sei non lo fa ma è proprio la testa la cultura la prevenzione il dialogo a partire dalla scuola che deve aiutare non per indottrinare un'identità di genere contro un'altra ma per educare alla libertà e alla tolleranza questo è il punto se rinunciamo a questo allora dico forse mi permetto di rivolgermi anche perché senza alcun tipo di astio di ostilità a Renzi non è non è la strada perché non affronta il punto chiave della questione sì anche perché se posso dire calcolatrice alla mano io ritorno poi ai lavori parlamentari se ci sono tutte le forze politiche i partiti che hanno votato la legge alla camera la maggioranza c'è anche al senato perché l'abbiamo visto ieri l'abbiamo visto ieri che sono state è stata votata l'uscita dalla commissione la calendarizzazione per il 13 luglio in aula al senato ed è stata votata non con i voti di Marte ma è stata votata con i voti della maggioranza dunque la maggioranza i voti ci sono i voti ci sono allora io non non dico che con il voto segreto sia una passeggiata dico però che dobbiamo anche lo diceva bene Marco soffermarci sul sul merito perché qui stiamo parlando di mediazioni senza parlare di persone senza parlare di vite senza parlare di facendo un passo ulteriormente indietro è proprio che i voti ci siano cioè chi sta mettendo in dubbio c'è chi sta ribaltando la situazione proprio pensi perché allora qui c'è il problema del voto segreto no nel senso che i regolamenti del senato prevedono il voto segreto per le questioni di coscienza a mio avviso questo è proprio un errore di metodo perché sono queste questioni sulle quali è importante che i parlamentari decidano liberamente discutano liberamente ma rispondano agli elettori di quello che decidono perché ci può essere un parlamentare della Lega di Forza Italia che è d'accordo ci può essere un parlamentare del PD o del 5 Stelle che è contro e purtroppo i partiti italiani sono spesso delle caserme con le espulsioni con gli ordini di partito invece bisognerebbe poter discutere liberamente senza voto segreto e con la libertà per ciascuno dagli ordini di partito quindi io non escluderei che nessuno di noi può escludere che in assoluto i cosiddetti franchi tiratori cioè quelli che dicono che votano in un modo e poi votano nell'altro possano affossare la legge per cui lo ripeto se fosse una mediazione che porta a casa di sicuro un buon risultato non sarebbe un ragionamento sbagliato quello di Renzi perché la certezza che il provvedimento possa resistere ai franchi tiratori non c'è se però la mediazione affossa la parte forte propositiva e che guarda il futuro del provvedimento allora probabilmente non ne vale proprio la pena e se dovrà essere impallinato credo che diventa senza senza troppa disperazione ma con molta speranza un'occasione per costruire la battaglia del futuro infatti Marco l'IDL ZAN che conosciamo è il frutto di tante mediazioni cioè alla Camera abbiamo fatto tantissime mediazioni non è il Parlamento è il luogo della mediazione però gli emendamenti che noi abbiamo accettato abbiamo sempre avuto come questa questa come stella polare non abbiamo mai accettato emendamenti che creassero delle discriminanti che creassero delle disparità di trattamento perché appunto questa non può essere una legge che discrimina nessuno deve essere una legge che tutela tutte le persone e dunque proprio su questo io anche al Senato quello che dico io è guardate che anche sulla questione dell'identità di genere troviamo anche eventualmente un'altra forma di mediazione ma il problema qual è è che il tentativo di mediazione della Lega è semplicemente una trappola infatti quello che io ho detto agli amici di Italia Viva non cadete nella trappola della Lega perché la Lega vi vuole usare come cavallo di troia per affossare la legge perché se ci fosse stata una buona fede della Lega l'avrebbe dimostrato nei fatti è chiaro che se mi presento una mediazione che esclude le persone trans quella è una mediazione che evidentemente vuole togliere un pezzo di umanità un pezzo di umanità questo non è non è non è non è accettabile non è possibile per cercare di spiegare meglio la questione del voto segreto cioè il voto segreto è una cosa che può aver senso nel momento in cui un parlamentare un senatore deve votare qualcosa che va che è discordante rispetto alla linea del partito però rispetto a delle cose che riguardano leggi di tutti io io da cittadino vorrei aver conto di cosa ha votato il mio senatore di riferimento di valutare il suo operato questa cosa del voto segreto francamente sul DDL Zalla trovo un po' non senso francamente domanda per Marco poi lo saluto che so che deve andare ah no poi ti devo farti ti chiedo un'altra cosa mettiamo caso scenario brutto non passa quale può essere il futuro dei figli in Italia se non dovete passare il DDL Zanna guarda ti rispondo collegandomi alla battaglia che stiamo facendo sulla eutanasia legale anche perché i sondaggi che non sono la voce di Dio che però sono una cosa di cui va tenuto comunque conto dicono che su DDL Zanna c'è un consenso abbastanza solido e la stessa questione è che riguarda l'eutanasia e in democrazia non è populismo è la democrazia italiana che prevede anche leggi di iniziativa popolare e il referendum ci sono anche altri modi per poter prendere delle decisioni che sono per esempio lo strumento referendario e lo strumento delle leggi di iniziativa popolare per cui a mio avviso se l'alternativa sul tavolo dovesse essere quello di avere come dice Alessandro una legge che discrimina non ci dovremmo perdere d'animo spero sull'onda di un successo che stiamo cercando di costruire sul tema del fine vita dell'eutanasia all'apertura della prossima legislatura se magari il governo riuscisse anche a autorizzare la firma online attraverso speed dei referendum credo che potremo organizzare un pacchetto di proposte che riguardi l'eliminazione delle discriminazioni rispetto al diritto di famiglia la fecondazione assistita e tutto quanto riguarda i figli eccetera e che questo pacchetto possa essere portato serenamente alla decisione diretta del popolo italiano se per i partiti è così difficile affrontare questi temi senza farne subito una questione di rissa tra una corrente, una maggioranza e un'opposizione perché quello che diceva Alessandro all'inizio è fondamentale, il governo Draghi non è nato per decidere sull'eutanasia o sull'omotransfobia, è nato con un compito che ha un ampio consenso nel paese che è combattere la pandemia e cercare di assicurare la ripresa economica. Quindi è fisiologico in democrazia che alcuni temi restino compito del Parlamento che liberamente decide. Se il Parlamento non riesce a decidere, mi auguro che invece riuscirà a farlo nel migliore dei modi, a quel punto ci sono gli strumenti della partecipazione popolare che possono coinvolgere direttamente un'opinione pubblica che da 40 anni a questa parte, come ha dimostrato il referendum sul divorzio e poi tutte le altre scadenze successive, un'opinione pubblica che è più avanti del ceto politico e questo lo si dice senza che questo sia un insulto al ceto politico, io ho grande rispetto per chi fa questo però una constatazione di quello che è accaduto in questi anni. Bene, adesso io racconto cosa stai facendo tu. Marco Cappato, che non è un politico, cioè sei un politico, è un cittadino che si fa un culo così ragazzi, sta cercando di raccogliere, lui non si fa l'estate, non si fa le vacanze, da oggi fino al settembre? 30 settembre. Lui ha da oggi fino al 30 settembre il tempo di raccogliere mezzo milione di firme per il referendum sul fine vita, sull'etanasia sostanzialmente, solo che per farlo in Italia che mi spiegava l'altro giorno che è uno strumento pazzesco perché non tutti i paesi l'hanno il referendum costituzionale. Sì, è un referendum previsto dalla Costituzione e abroga le leggi ordinali. Solo che per farlo in Italia lui deve fare dei banchetti dove ogni banchetto in Italia deve avere un pubblico ufficiale che certifica la firma. Può essere un avvocato o un consigliere comunale, un sindaco, eccetera. Esatto. Facciatevi lo sbattimento che si sta facendo andando in giro per l'Italia a raccogliere queste firme. Vabbiamo a Bari e inizia un tour pugliese di tre giorni dove tocchiamo tutte le province più Matera. Però c'è uno strumento che poi lo farò anch'io, farò vedere in un video, che se andate all'anagrafe, giusto? All'ufficio dell'anagrafe, io ce l'ho di fronte al mio ufficio, e chiedete il modulo. Posso firmare il referendum sull'eudanasia? Te lo danno e puoi andare tu a firmarlo di tua sponte. Comunque lo farò vedere io in questi giorni. Esatto. Allora i moduli sono appena arrivati nei comuni sopra i 10.000 abitanti, negli altri comuni più piccoli arriveranno nei prossimi giorni. Ovviamente non lo sto facendo da solo ma ci sono quasi 10.000 persone che si sono registrate come volontari e come volontari sul sito che è referendum.eutanasialegale.it e quindi chi ha voglia di dare una mano per creare questa mega impresa di raccolta delle firme, naturalmente è benvenuto. Anche i parlamentari possono autenticare le firme. Alessandro è già nell'intergruppo, ma anche altri lo stanno facendo. Tra l'altro anche di destra oltre che di centro e di sinistra. Quindi è un'iniziativa trasversale che non significa avere già deciso. Significa, visto che da 37 anni la prima proposta di legge, Loris Fortuna, il padre della legge sul divorzio, da 37 anni il Parlamento non è riuscito a decidere, lo può fare direttamente. Il popolo italiano non è riuscito a decidere, il popolo italiano non è riuscito a decidere. Perfetto. Ti ringrazio Marco. Grazie a voi. Ciao Federico, ciao Alessandro. Bravo Marco. Ciao. Grazie. Gran finale. Esci tu Marco, io non so come farti uscire. Io so come uscire ma ce la farei. Ah no, so farlo, so farlo. Pengo il telefono. Ciao. Unisco Civati e gli chiediamo un pensiero. Allora, vediamo. Chissà come si fa. Ok, sì, vado, sta diventando bravissimo. Eccola. Allora, sta andando tutto liscio, è incredibile. Un attimo. Vediamo. Oh, eccomi. Come va? Come va? Bene. Vi ho ascoltato con grande interesse. Ciao, Bipo. Ciao Alessandro. E devo dire che è tutto il giorno che mi insultano perché siamo a favore della libertà d'espressione. È incredibile. Perché è l'argomento che usano per difendere le norme più conservatrici, gli emendamenti più incredibili che avete benissimo descritto. È proprio questo concetto della libertà d'espressione. Invece voglio ringraziare Alessandro per il lavoro parlamentare. Marco è andato via ma forse ci ascolta per questa battaglia che condividiamo. Ma soprattutto chi si spende in modo generoso per una battaglia che non gli porta niente. Perché poi vediamo nei commenti che c'è uno a favore e uno contro nella tua fan base. Quindi non capisco perché i cittadini, le cittadine, le persone più in vista non possano partecipare al dibattito pubblico. È un'idea della politica molto riduttiva e molto pericolosa, peraltro. Io penso che oggi Repubblica mi ha chiamato e mi diceva fate una cosa strana su Instagram con Fede. Parliamo. Parliamo e dice ma volete sostituire la TV? Dico guarda che questo non è un metodo democratico, è un modo per parlare alle persone. Meno male che c'è, perché peraltro quelli come noi spesso lo usano perché non sono invitati nei talk show o non sono parlamentari, non sono nelle cariche che io rispetto tantissimo. Non voglio fare del qualunquismo. Però il punto è che la politica è ricca di tante. Guarda, i protagonisti di questa storia, oltre a tanti di voi, e spero che ci siano tanti uomini e donne di spettacolo che vogliano raccogliere questa sfida, sono i ragazzini e le ragazzine che sono andate al Pride. Io ero colpitissimo, cioè starò invecchiando tantissimo e voi riderete, però vedere 15 anni, 20 anni con degli slogan belli, liberali, aperti, appunto non di nessuna bandiera, perché poi anche questa storia delle tifoserie, ma quali tifoserie? Cioè questa in tutta Europa è considerata una misura minima di laicità. In Italia si fa fatica in politica, e Alessandro lo sa, a parlare di trans, perché è una parolaccia. Io ho dovuto togliere da un programma elettorale della lista più a sinistra che si è candidata alle elezioni l'altra volta, perché dicevano trans è troppo... Madonna, trans, hai detto trans, capite che condizioni siamo. Allora questo è il punto, ed ha fatto bene Marco a dire che è una questione prima di tutto culturale, ed è una questione veramente di apertura di un paese che invece sceglie sempre la paura, sceglie alle elezioni, in tutte le occasioni, anche nel modo di parlare, no? Dicevo prima degli insulti incredibili, io sono tre anni che sono uscito dalla politica, prendo delle pastiglie, cioè tutte le sere vado a letto con una terapia, però non so che faccio l'editore, ma che cazzo di provincia avete? Cioè io non ho niente contro nessuno, vedo solo una legge che ha dentro due cose che vogliono togliere. Secondo me è molto sbagliato, come è stato detto. Punto. Mi collego ad una cosa che dè, cioè non esiste un luogo depositario dove si può parlare di... i politici non sono i depositari della politica, quello che avviene nel nostro paese è di tutti, cioè quindi aprire un dialogo. Io metto a disposizione la mia piattaforma perché credo che sia importante parlare di queste cose. Nei commenti è normale che c'è chi scriverà stronzate come le stia scrivendo, c'è chi non è interessato, c'è chi non lo è. A me sta a cuore. Si pensa che io lo faccia per doppio giochismo perché io sto burattilando poteri. Sti cazzi lo sto facendo. Poi ognuno può valutare, può ascoltare quello che c'è da dire, chi è interessato, chi non è interessato, chi fa niente. Io ho una mia coscienza città, perché sono un cittadino. Il fatto che io abbia dei follower a disposizione, come dice oggi Stefano Feltri, che io dovrei essere regolamentato dallo Stato perché sono in una zona grigia in cui opero in maniera poco lecita secondo lui perché esprimo il mio pensiero. Lo trovo francamente assurdo. Cioè la televisione non è depositaria del parlare del paese della politica, i talk show non lo sono. Tutti i luoghi sono buoni per essere un luogo di condivisione e di scambio. Anche il luogo in cui ci troviamo ora. Detto questo ti volevo chiedere, io voglio proprio entrare nel merito. Mi dici cosa pensi di questa cosa dire? A me Alessandro mi ha detto di andarci piano, però io vorrei una disamina tua di il Renzi pensiero. Mi sono salvato queste cose che fanno questi grafici agghiaccianti dei partiti dove, cosa che dice, ve l'ero salvato da qualche parte. Vabbè, in sostanza dice la politica è fatta di compromessi, io voglio salvare Didier Lezzan e non capite nulla voi perché io faccio politica, io sono un politico, io Matteo Renzi, voglio salvare Didier Lezzan e non è vero che lo voglio affossare. Cosa pensi riguardo a questa cosa? Ma io penso una cosa banale che in realtà la posizione di Scalfarotto e di altri parlamentari di Tagliaviva fino a un mese fa era la stessa che stiamo proponendo noi e quindi c'è una strumentalità che esce, secondo me, lo dico con rispetto grandioso per questo Didier Lezzan le cose che potrebbe aprire, perché poi parlavo delle persone trans che hanno un sacco di problemi burocratici sanitari che andrebbero risolte, cioè sarebbe una miccia che accende un dibattito ancora più grande, no? L'approvazione di questo Didier Lezzan. Però dicevo, secondo me lo sguardo di Renzi è ad altre battaglie, ad altre questioni politiche, al posizionamento suo, questo flortare con la destra, continuamente parla del Quirinale, non so se avete notato, dice Zan, poi ho fatto la votata su Zen, da quando Chiara l'ho attaccato mi sembra un po' meno Zen, un po' nervosetto, diciamo. Però la questione è che lui mischia un fatto che per noi è essenziale, politico, istituzionale, come il DDL promosso da Alessandro e da tanti altri parlamentari, con una battaglia politica che riguarda lo schema dove si vuole mettere, il Quirinale. Continuano a parlare del voto segreto in modo anche malamaldeggiando un po', non so se avete visto anche oggi, chissà i 101 di Brodi, pure Brodi, poverino, cioè evochiamo, no? Perché? Perché si fa segno a una politica che è diversa da quella di cui stiamo parlando, a noi interessa, siamo persone che la pensano diversamente su molte cose, no? Potremmo anche dividerci su altri temi, ma il punto è che a noi ci interessa questo oggetto, questa questione, perché ne apre mille altre. Forse a lui interessa qualcosa di d'altro, ecco, insomma, quindi non c'è nessuna, la parola che userai è strumentale, ecco, per dirla in politichese, così ci capiscono anche gli amici. Stavo dicendo i compagni Italia Viva che non sono proprio Rosso Coca-Cola, diciamo, non sono Rosso Coca-Cola, ma mi stava scappando compagni. E sulla questione non ci sono numeri in Senato, ecco, e cerco di addentrarmi in un pensiero mio, sarà difficilissimo ovviamente, ma mi par di capire che i voti in Senato ci siano, cioè l'abbiamo già detto ma lo ribadirei, cioè nel senso come ieri i voti in Senato c'erano, i voti in Senato ci sono, quello che dice Renzi è potrebbero esserci questi i panchi tiratori, però a Milano si dice piuttosto che niente, cioè preferisco andare al voto con un DDL così com'è, perché è già frutto di una forte mediazione, è già frutto di voti segreti, è già di per sé, è stato fatto con la collaborazione stessa di Italia Viva, dove l'attuale ministro delle pare opportunità è intervenuta sull'articolo 7, sono intervenuti sull'articolo 4, sull'articolo 1, cioè Italia Viva ha scritto insieme agli altri partiti il DDL e ZAN, oggi volta la faccia, dicendo potrebbero non esserci voti, quindi smembriamolo, ma io preferirei andare al voto con il dubbio, con il dubbio che forse non ci sono i voti, piuttosto che a sapere che Italia Viva si mette contro, e questo io non ho capito, cioè se il DDL e ZAN andasse al voto così com'è, Italia Viva lo voterebbe o no? Questo lo devi chiedere a ZAN. È una domanda da porsi però, perché quanto pesa Italia Viva? Quanto pesa Italia Viva? Sul voto, diciamo. Eh, pesa tanto Italia Viva sul voto? Pesa 17 mi pare, senatori, sono tanti perché i numeri al Senato sono risicati, però su questo ti posso rispondere secondo me, se Italia Viva vota alla legge, la legge passa. Il discorso non ha più senso. Io sto anche a quello che ha detto Italia Viva, perché Renzi e Italia Viva, i senatori, Scalfarotto, hanno detto una cosa molto chiara. Noi tentiamo la mediazione con la Lega, perché la Lega sta al governo e dunque vogliamo che anche la Lega, proprio per non rendere il governo in fibrillazione, che non mi pare che Draghi sia molto in fibrillazione. L'ha detto chiaramente al Senato, lo Stato è laico, io non voglio entrare nel merito di questo, il Parlamento è sovrano, il Parlamento fa le leggi e io faccio il Presidente del Consiglio. Per cui mi pare che le preoccupazioni sulla fibrillazione del governo non siano di quelle che dovrebbe averlo, cioè il Presidente del Consiglio. Ma a parte questo, Italia Viva ha detto che se non, almeno io sto alle ultime dichiarazioni, se le mediazioni con la Lega non dovessero trovare un terreno comune, noi assicuriamo il nostro voto al DDL Zan, perché quella legge l'abbiamo voluta anche noi. Quindi diciamo che un tema da porre, una domanda da porre è perché il voto segreto? Cioè io da cittadino italiano, io Federico comunista con Rolex, io Federico sovranista, io Gino di Casa Pound, voglio sapere cosa hanno votato i miei senatori. I miei senatori di riferimento, ho bisogno di sapere chi è andato contro quello che diceva, chi ha detto una cosa e ne ha fatto un'altra, ho bisogno di sapere. Tra l'altro alla Camera è successa una cosa, è un boomerang il voto segreto, perché volevano mettere il voto segreto per affossare la legge. In realtà molti parlamentari del centro-destra, che ovviamente siccome tutti viviamo nella società, nel paese reale, abbiamo figli omosessuali, cugini, amici, persone trans, cioè voglio dire non è che vivono su Marte questi, no? Ecco, nel voto segreto pare che non solo alcuni, ma più che alcuni parlamentari abbiano votato a favore della legge. Dunque attenzione, il voto segreto anche al Senato potrebbe rivelarsi come un boomerang. Per quello io dico, anziché evocare con il voto segreto non passa, diciamo innanzitutto difendo questa legge perché l'ho voluta anch'io, perché è una legge scritta bene, fatta bene. Good point, è vero. Quindi la gente Renzi dice occhio ai franchi tiratori, ma qui bisognerebbe dire occhio perché ci sono anche i franchi tiratori degli altri che potrebbero votare. C'è una senatrice di Forza Italia che ha fatto coming out, ha detto io sono lesbica, ho una compagna e voterà il DDL ZAN e non sarò l'unica in Forza Italia. Dunque attenzione perché non è che dall'altra parte sono tutti pillon, malan e così, ci sono anche delle persone realmente liberal, realmente liberal, che invece la legge la vogliono votare. Posso dire una cosa, stupidissima ovviamente, non ha niente senso. Questa cosa che ha messo in campo Renzi mi sembra che non abbia minimamente alcun senso perché se da una parte c'è quello che dice Renzi, dall'altra parte c'è quello che dici tu. Se ci sono i franchi tiratori da una parte ci sono anche dall'altra. Quindi perché voler mettere in discussione una legge in cui il partito di Renzi ha contribuito, è stata parte attiva e integrante. Perché lui è stato il deus ex machina del governo Draghi, dal suo punto di vista ha detto io ho fatto cadere il governo Conte e grazie a me è arrivato Draghi. Adesso forse Renzi si sente un po' il responsabile della tenuta di questa maggioranza e vuole coinvolgere la Lega. Ma teniamo fuori il governo da questa roba, ti prego, lo dico a tutte le persone, non solo a Matteo Renzi, non solo a Italia Viva, lo dico a tutti. Teniamo fuori il governo da questa cosa. Questa è una legge di iniziativa parlamentare. È difficile trovare, se non impossibile, una mediazione tra parti che hanno idee opposte, che hanno visioni opposti. Cioè se uno mi dice, come Salvini, che secondo lui la legge Orban è innocua quella che ha fatto la legge omotransfobica fatta in Ungheria, ma io l'ho letta è innocua. Ecco se uno mi dice così, ma che tipo di relazione e mediazione posso fare con uno che mi dice che una legge che ha approvato Orban è innocua? Vuol dire che anche da questo punto di vista, siccome anche Italia Viva e Renzi, quando Orban ha approvato quella legge terribile omotransfobica, hanno preso giustamente le distanze, ecco che da questo punto di vista... Ma proprio lontano dalla legge Orban, cioè io ripeto delle cose per cui non possiamo più andare in Rai. Cioè parliamo di un partito dove al suo interno ci sono persone che hanno fatto delle asserzioni ben specifiche che sono ancora lì. Quindi che hanno detto, se mio figlio fosse gay lo brucerei nel forno. Io le ripeto sempre perché secondo me è meglio non dimenticarsele perché come diceva Montanelli siamo un paese senza memoria storica, quindi bisogna ricordarle le cose. Cioè parliamo di un pillon che... Alla fine poi l'hanno fatto relatore, pillon? No, no. Relatore si è autonominato Ostellari. Ostellari. Eh no, poi chi ha chiamato lui gli Avengers, gli Ostellari? Chi erano? No, no, si è nominato relatore lui. Ma ha chiamato in commissione anche Zenger. Ha chiamato le audizioni, sì. Le audizioni, ha chiamato... Ostellari ha chiamato Zenger che è quello che ha detto se le unioni civili fossero... se i matrimoni gay fossero legali porterebbero all'estinzione della specie. Cioè... Esatto. Ma uno ha anche detto che la pedofilia è un orientamento sessuale in quelle azioni. O uno ha anche detto che ci sono troppi giurati gay a Ballando sotto le stelle e dunque c'è una lobby gay che ci sovrasta. E gli è stato detto ma guardi che lei è stato invitato per commentare la legge, non per parlare di Ballando sotto le stelle. Ecco, dunque per dare l'idea del tenore e della qualità delle audizioni che ci sono state in Senato. Povero Senato. Raggi Comico, vi posso fare una domanda che è una mia mera curiosità? Quanto secondo voi può aver influito l'intervento del Vaticano sul DDL ZAN sulla situazione che stiamo vivendo oggi? Cioè sulla situazione attuale. Ma inizio io molto perché è stata un'esca straordinaria per riaprire un dibattito che invece si stava concludendo. Io non sono né pessimista come te né così ottimista come Alessandro che lo deve fare per forza. Sono un po' a metà strada che sono preoccupato. Lo dico sorridendo perché porto sfiga. Quindi se dico che passa poi dopo non passa e venite tutti a prendermi a casa. Ma in realtà questa cosa ha aperto una discussione. Tra l'altro ho avuto una discussione anche con Enrico Letta, che io chiamo Enrico Light, perché è sempre queste posizioni un po' moderate, perché non si capisce bene, che dice il Vaticano va ascoltato. Boh, io penso che no. Cioè nel senso che anche il Vaticano usa degli argomenti che sono fuori dalla radicità di una repubblica, che è quella che ha detto Draghi. Io sono un estremista radicale, pericoloso, fuori dal Parlamento. Però Draghi mi pare abbastanza centrale, no? O anche uno importante in Europa. Insomma, quindi se lo dice lui, forse possiamo anche alzare le spalle e dire se una cosa è giusta la fanno altri paesi europei, senza essere anticlericali, senza parlare male della Chiesa, però facciamo quello che riteniamo essere utile. Lo ripeto, per i cittadini e le cittadine, perché Alessandro lo diceva bene prima, questa legge va a tutelare persone che non sono tutelate. Va a costruire cultura contro la violenza, contro la discriminazione e contro l'odio. A me sembra una buona cosa. Cioè dovrebbe essere un paese che non dico che la vota tutta, sta legge, a parte tra quattro matti, ma tutti gli altri dicono, beh, in effetti, no? Se questa cosa succede in tutta Europa, quella parte civile, non Orban, appunto, forse possiamo permetterci anche noi, tutto qua. E non la lasciamo perdere, ovviamente, anche chi per mestiere. Perché poi io capisco che la Chiesa debba dire così, però noi non ne finiamo più, eh? Cioè... Ah, possiamo anche... Secondo me, sì, è vero, è vero quello che dice. A parte, voglio dire, io invece difendo con grande forte Enrico Letta, non solo perché io sono del Partito Democratico, ma perché lui veramente si sta venendo sul gruppone questa battaglia e bisogna riconoscerglielo con grande determinazione e con grande chiarezza. Perché poi, insomma, adesso, assieme anche, ad esempio, ai Cinque Stelle, che su questo non hanno mai tentennato un attimo. E questo bisogna riconoscere, no? Leu, eccetera. Dunque, voglio dire, c'è chi invece sta conducendo una battaglia forte. Io penso che l'intervento del Vaticano, oltre ad essere stato, l'abbiamo detto più volte, un'ingerenza abnorme, impropria, è anche un segno di debolezza. Perché? Perché arrivare a ricorrere, diciamo, ad una nota diplomatica e non semplicemente ad un intervento della CEI, perché è sempre stata la CEI, no? La conferenza episcopale italiana che si è occupata delle questioni politiche italiane. Ma quando uno Stato estero consegna, tramite il proprio ambasciatore, una nota verbale al nostro ambasciatore su una legge dello Stato che, peraltro, non è stata approvata. Perché se fosse stata approvata la legge Zan, uno potrebbe aver detto, ma questa legge viola il concordato in queste cose. Ma averlo fatto la legge non approvata è stato particolarmente... Ma secondo me, ripeto, è stata una mossa, un boomerang anche questo. Perché ha costretto il Vaticano a fare passi indietro, il segretario di Stato a dire, ha ragione Draghi, che lo Stato è laico. E' vero, ha creato delle fibrillazioni. Però io penso che tutto quello che siamo riusciti a fare e la mobilizzazione che c'è stata, e anche grazie all'impegno di Fedes, che ringrazio, perché qua, voglio dire, tutti sono bravi a criticare, però poi chi mette la propria faccia, il proprio tempo e la spende per una battaglia di civiltà è comunque da apprezzare e da ammirare. Dunque il mio grazie ci sarà sempre. E assieme a lui tante persone del mondo della cultura, del mondo dello spettacolo. Cioè, guardate, su questa legge c'è stata una mobilitazione, anche in tempi di pandemia, dove i social sono l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione, veramente che non si era vista o che non si vedeva da tanto tempo, che dimostra che i giovani si avvicinano alla politica su temi di impegno civile, sui temi dell'ambiente, sui temi della legalità, e penso che questo sia un valore enorme. Cioè, al di là di come andrà a finire, io rimango ottimista, ma il dibattito che si è creato in questo paese attorno ai temi dei diritti è stato veramente importantissimo per questo paese e rimarrà traccia di questo dibattito, di questa riflessione, di questa mobilitazione. Per cui io penso che comunque è già un successo. È chiaro che adesso dobbiamo portare a casa la legge. Ma già questo è un successo, secondo me. Sono molto d'accordo. Posso chiudere con una cosa? Poi non so se tu vuoi andare avanti tutta la notte. No, vado. Fino all'approvazione. Andiamo avanti fino all'approvazione del DL, diciamo. Tipo maratona ventana. La maratona ventana. No, è che c'era un mio vecchio professore, che non c'è più purtroppo, è scomparso alla fine del Covid, che si chiama Giulio Giorello, che difendeva il voto di coscienza dei parlamentari. Però aggiungeva una cosa, che hanno la coscienza anche i cittadini. Quindi il voto di coscienza dei parlamentari, la loro libertà, anche attraverso strumenti, stasera abbiamo molto criticato il voto segreto, ma qualche volta potrebbe anche servire, forse non in questo caso. La libertà di coscienza e anche l'articolo, come dire, della Costituzione che preveda che il parlamentare rappresenti la nazione, non deve però colpire la libertà di coscienza di chi il parlamentare rappresenta. Questo è un'altra cosa, un altro cortocircuito che facciamo sempre fatica a vedere. Ma alla fine di questo stiamo parlando. dell'autodeterminazione delle persone, delle loro scelte, del come sono fatti, del come ritengono di vivere. A me pare gigantesco. Fare veramente un dibattito molto pesante su questi argomenti è pericoloso perché si fa un favore a quelli che non vogliono cambiare nulla e che vogliono tenere un paese impacchettato che poi non riesce a impacchettare perché il paese si muove. Ripeto, io credo che le nuove generazioni questo dibattito lo trovino lunare. Spero per loro che sia così, insomma. Quello è il tema. È lunare. Perché faccio tutto questo? Perché mi sembra uno scenario distoppico quello in cui ci troviamo. È un po' assurdo. Da un lato lo comprendo perché conosco il nostro paese, però è veramente l'opportunità di essere un pochino al passo coi tempi, mi viene da dire, no? Di non essere anacronistici. Però ditemi se ha senso questa chiusa, visto che il tema sollevato è un politico ha deciso in qualche modo di fare questo giro di volta e di cambiare le carte in tavola. Io messaggino che mi permetto di dare a Renzi o all'ego di Renzi, dipende da quale deve essere l'interlocutore più giusto per arrivare al punto. Diciamo, visto che si vuole freggiare di essere un paladino dei diritti e di aver portato avanti delle battaglie meritevoli, diciamo che riuscirebbe, facendo votare il suo partito pro di DL Zan, anche a... no, stavo per dire una cagata, ma non la voglio dire. Non la voglio dire. Cioè nel senso, dopo l'Arabia Saudita potrebbe, diciamo, dopo aver fatto questo elogio fantastico dell'Arabia Saudita, che non è proprio, diciamo, un baluardo dei diritti, potrebbe riscattarsi, diciamo. Potrebbe essere un'arma di riscatto per Matteo. Può aver senso. Per me è arabo quello che stai dicendo, non capisco la provocazione. Ok. No, ma se vota la legge possiamo anche dargli il merito, eh. Per me non è un problema. Ma diamogli alla lui, se così è più convinto. Per il merito tuo ti facciamo un... Esatto, esatto. Non abbiamo, diciamo, primati o ambizioni di questo tipo. A me interessa che la legge passi, poi tutto il resto... Va bene. Io vi ringrazio davvero tantissimo. Grazie a voi. Per il tempo e ringrazio quelli che hanno seguito con interesse questa diretta. Grazie Alessandro e grazie Giuseppe Ciccio. Grazie Federico, grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci, buon lavoro a tutti. Grazie, buon lavoro. Ciao. Io come faccio? Faccio così. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Ragazzi, io vi saluto. Grazie per chi ha seguito con interesse. E niente, era uno spazio di dibattito aperto. Spero che possa essere stato utile a chiarire le idee, a farsi un'idea, ad avere un punto di vista. Tutto qua. Potere della condivisione.